Ben arrivato in Abruzzo già da qualche giorno, perché questa esperienza? Perché Chieti? Grazie intanto per il benvenuto, è la prima intervista che facciamo da quando sono arrivato qui a Chieti. Ho scelto questa piazza per diversi motivi. Intanto è una piazza che ha voglia di calcio ed è secondo me fondamentale per chi vuole sviluppare un percorso calcistico di un certo tipo, avere i tifosi, avere la piazza che ti segue. Il nostro sicuramente non sarà un programma breve, sarà un programma medio-lungo perché dobbiamo rifondare questa società che purtroppo aveva pochi tesserati perché si fondava soltanto sulla prima squadra, la Juniors, mentre il nostro obiettivo è di ricostruire tutto il settore giovanile e la scuola calcio. Perché secondo il nostro obiettivo un po' ambizioso è quello di fare in modo che sia la società calcistica di riferimento della provincia e quindi dobbiamo dare a tutte le categorie, gli istruttori per crescere i ragazzi e quindi per fare calcio nella maniera tradizionale. Secondo me si potrà fare molto bene. Chiaramente però i tifosi vogliono anche sapere un po' che tipo di squadra si può allestire quest'anno, che tipo di campionato si potrà fare, gli obiettivi. Certo. Allora, non esiste nessuna società che non ha l'obiettivo di vincere. Quindi questo è chiaro. Sportivamente quando si scende in campo, anche quando facciamo una partita amichevole tra amici, si vuole sempre vincere. Quindi la mentalità del mister e dei ragazzi sarà quella di raggiungere l'obiettivo massimo. Questo assolutamente. Dal punto di vista della squadra noi puntiamo molto a quello che è un percorso secondo me corretto, e cioè di puntare sui giovani, ma non solo a parole, nei fatti. Quindi non essere obbligati a mettere i quattro ragazzi che impone la federazione, ma andare a cercare ragazzi che possano darci quel valore aggiunto che, tanto nel calcio è per i giovani. I cosiddetti under rappresentano sì la spina d'ossale della squadra, ma noi vorremmo snaturare questo e fare il contrario. Quindi riuscire a fare una squadra assolutamente competitiva di un'età molto più bassa. Lei ha parlato un po' di obiettivi anche a lungo termine, rifondazione anche partendo dall'allargando la base giovanile. C'è negli obiettivi, magari non quest'anno, o perché no anche quest'anno, negli anni successivi, il ritorno del Chieta in Serie C? Ma quello è scontato che l'obiettivo massimo è quello. Però ritengo che la società deve essere adeguata ed essere pronta per affrontare il professionismo. I miei collaboratori sono tutti in grado di poter dare le indicazioni e di fare in modo che questo passaggio avvenga. Sono persone che hanno lavorato tra i professionisti e quindi bisogna preparare non soltanto al posto di vista finanziario la società per passare ai professionisti, che è limitativo. Non si va in Serie C con i soldi, si va in Serie C con la qualità dei ragazzi, con l'organizzazione, con i dirigenti. Poi ci vogliono anche i soldi perché è inutile negarlo, bisogna anche mettere delle risorse economiche, se no non si va da nessuna parte. Ma è sbagliato pensare che con un investimento finanziario si raggiunge i massimi vertici del calcio. Lo vediamo ovviamente nelle squadre, non ve lo devo raccontare, che guardiamo i giornali che investono milioni e milioni di euro e non sono in grado di fare calcio. Purtroppo l'equilibrio nella vita, come nello sport, vince sempre. Quindi noi dobbiamo trovare un equilibrio finanziario, tecnico, qualitativo, umano, perché bisogna sempre ricordarci che è un gioco di squadra, quindi non conta avere dei singoli di valore, noi abbiamo bisogno di un valore aggiunto di squadra, di collettivo. Un'ultima cosa, ieri lei ha incontrato il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, così in breve, che cosa vi siete detti? Magari avete parlato anche dello stadio, una futura gestione? Non so, mi dica lei. No, ovviamente non posso dire cosa ci siamo detti, però vi posso sicuramente confermare che è una persona di altissimo standing. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato anche, era presente l'assessore allo sport e ci hanno dato la massima disponibilità per poter creare attorno a questa società un movimento che probabilmente stavate attendendo da diverso tempo. Io spero, con i miei collaboratori, di riuscire a portarlo.